Il sindaco Salvatore Quinci determina dimominare la giunta municipale composta dalle persone sotto elencate. Vito Torrente, Germana Abbagnato, Vito Billardello, Gasparino Giacalone, Gianfranco Casale. Con determinazione odierna il sindaco decide di attribuire il conferimento delle deleghe per l'esercizio di determinate attribuzioni agli assessori sotto elencati nelle seguenti materie. Vito Torrente, deleghe servizi alla città, lavori pubblici. Germana Abbagnato, deleghe turismo, eventi, cultura. Vito Billardello, deleghe bilancio, programmazione e sport. Gasparino Giacalone, deleghe polizia municipale viabilità, attività produttive, servizi alle imprese, servizi cimiteriali e demografici, patrimonio urbanistica. Gianfranco Casale, deleghe partecipazione, quartieri e coesione sociale, politiche giovanili, innovazione smart city, agricoltura, benessere degli animali. Con la stessa determina il sindaco nomina, quale vice sindaco, il dottor Vito Billardello. Il sindaco inoltre riserva espressamente a sé le deleghe in materia, quindi trattiene le deleghe in materia di tributi, personali, politiche comunitarie, pesca, sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili, welfare ed inclusione, pubblica istruzione, decoro urbano e verde pubblico, rapporti con il Consiglio Comunale, infrastrutture, protezione civile e ambiente.